Ad Adrano in via Bandinelli 15, supermercato Eurospar. Tanti prodotti a prezzi imbattibili. Reparto macelleria, salumeria, ortofrutta e piccoli elettrodomestici. Risparmio assicurato. Offerte valide dall'11 al 21 settembre. Pasta Poiatti 1,29 euro. Latte Parmalat 89 centesimi. Coca-Cola B-Pack 2,09 euro. Frigitrice ad aria 24,90 euro. Prosciutto cotto lenti 1 euro letto. Edammer 69 centesimi letto. Mortadella Leoncini 99 centesimi letto. Salsiccia semplice 5,99 euro al chilo. Salsiccia condita 6,99 euro al chilo. Costata di bovino 10,99 euro. Fettine scelte 12,99 euro. Preparati di carne a partire da 5,99 euro al chilo. In questo periodo sconto del 20% su tutto il reparto scuola ed ortofrutta. Inoltre fino al 10 novembre sconto del 10% su tutti i prodotti per l'igiene della casa e della persona, esclusi i prodotti già in offerta. Supermercato Eurospar. Ad Adrano in via Bandinelli, traversa di via Catania al numero 122 di fronte via Acireale. Comodo parcheggio.